Le fiamme sono state spente e quello che resta ora sono le domande, quelle a cui tenterà di rispondere la procura della Repubblica di Macerata che, come da prassi, ha posto sotto sequestro l'intera area di proprietà della Orim di Piediripa. Il grande lavoro dei vigili del fuoco e il funzionamento della macchina della sicurezza ha permesso di far rientrare la prima emergenza, ma è chiaro che adesso c'è un intero territorio che vuole sapere che cosa è successo, perché è successo e quali saranno le conseguenze. Ieri sera, con il passare delle ore, la densa nube nera ha avvolto l'intera zona, spostandosi poi rapidamente spinta del vento. Era visibile anche a Porto San Giorgio e nel Fermano. La circolazione nei pressi dell'aria interessata dall'incendio è risultata difficoltosa e rallentata fino a circa le 22. Si è proceduto a senso alternato con gli agenti di polizia protetti da mascherine che hanno provveduto a regolare il traffico. Sul fronte delle indagini invece ci si concentra oggi su un documento della Regione Marche che autorizzava l'azienda al trasferimento in Germania di rifiuti tossici. Rifiuti che, però, in terra tedesca non sono mai arrivati e che si teme potessero essere ancora stoccati all'interno del capannone della Orim.